La notizia sta facendo sognare i fan di Elisabetta Canalis che torna in Italia e condurrà un nuovo programma televisivo. Ecco quando. Sembra davvero una notizia bomba quella che sta rimbalzando su tutto il web. Una delle veline che ha fatto la storia di striscia la notizia e ha fatto sognare milioni e milioni di telespettatori, sta per tornare. Ebbene sì, Elisabetta Canalis torna in Italia e sarà di nuovo in tv con un programma tutto suo. La showgirl ha lasciato gli Stati Uniti per ritornare alle origini. I fan non stanno nella pelle e non vedono l'ora di rivederla sul piccolo schermo. La Canalis, conosciuta sul bancone più famoso d'Italia, è diventata una showgirl affermata, seguitissima da donne e uomini. L'ex velina aveva lasciato l'Italia per amore seguendo suo marito in America. Lei infatti aveva messo in stand-by la sua carriera per dar spazio al suo amore medico. Ma ora una nuova occasione ha bussato alla sua porta ed Elisabetta sembra non volerci proprio rinunciare. Ecco dove e quando potremmo rivederla. La notizia è stata resa nota dalla rivista Novella 2000 diretta da Roberto Alessi, esperto di gossip e spettacolo. L'ex velina tornerà presto e lo farà in grande stile, guidando un programma tutto suo e sostituendo grandi nomi. Chi meglio della Canalis potrebbe condurre il programma vite da copertina su TV8? La data di inizio non è stata ancora ufficializzata ma pare che il format stia già scaldando i motori. Elisabetta arriva su TV8 dopo Alda Deusanio, Elenoir Casalegno e Giovanni Ciacci ed infine Rosanna Cancelliere che, stando a quanto si legge, non verrà confermata. Dunque, grande fermento tra il pubblico e tra i fan dell'ex velina che sicuramente sarà stupire i più in questa nuova veste da conduttrice. Un ritorno en pompa magna per Elisabetta. Donna Martina Dove le 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 l'e a durante lunga Veryually die centimille, retirando un traced matto di ga且 Dove le 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 le... Grazie a tutti.